Una richiesta che era stata fatta da tempo, anche da parte dell'istituto comprensivo, è quella dell'asfaltatura del cortile lato nord della scuola primaria. Un nuovo piazzale, più bello e sicuro. Partiranno a giorni i lavori di asfaltatura del piazzale della scuola primaria di Polpet, che si fanno ad affiancare al tradizionale piano delle asfaltature, 250.000 euro compressivi, 70.000 dei quali aggiunti con l'ultima variazione di bilancio, e che saranno conclusi in rapidità. I lavori sono imminenti, dovrebbero iniziare dopo Ferragosto, per concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. 55.000 euro costo complessivo dell'operazione, che vede anche il contributo economico del comune di Soverzane. Soverzane ha partecipato alla spesa con 10.000 euro, perché la scuola primaria di Polpet serve anche il comune di Soverzane, con gli alunni della fascia delle primarie, che da Soverzane arrivano nella nostra scuola primaria. Oltre alla semplice asfaltatura, saranno realizzate anche tutte quelle opere necessarie per mettere in ordine e in sicurezza il piazzale, frequentatissimo sia dai bambini che dai docenti. Verranno fatti anche i sottoservizi, ripristino anche tutti gli interventi che servono a fare in modo che il piano del cortile resti all'asciutto e i bambini anche possano usufruire di questo spazio, oltre che le insegnanti possano parcheggiare le loro auto.